No, che erano piccoli, magari con delle lucerne, e in effetti noi abbiamo trovato una lucerna in quella posizione, ripulivano un po'. Come il libro in giro. Mi pare che anche gli spazzacamini di solito era meglio che fossero ragazzi. Eh sì, dove c'era un foro, un'apertura piccola, è chiaro che il ragazzino si lavora meglio che non tutto, ecco. Ma c'è qualche video? Questa aria calda tramite un altro condotto simile a quello portava l'aria in un vano che stava vicino all'ingresso della chiesa e poi probabilmente la fuoriuscita di questo fumo e aria calda, presso il tuo, veniva tramite un classico cammino probabilmente in quella direzione, avendo l'altro vano più avanti.